Un cavaliere d'altri tempi. Più giù, più giù. Silvio, in forma? Ma, mi dicono che sia veramente in forma, molto in forma, è instancabile, come sempre. Il ritorno del cavaliere. Il ritorno del cavaliere. Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Una parola, bene? Eccoci. Eccoci. Ecco, allora. Quei sondaggi risultano, per i nostri sondaggisti, assolutamente privi di fondamenti. Quanto durerà il governo? Io spero che cada fra un'ora, domani, dopodomani, il più presto possibile. Su cosa? Ah, monsieur attendez au café du palais. Ah, monsieur attendez au café du palais. Ah, monsieur attendez au café du palais.